Salve, sono Francesco Mati. Oggi parleremo di una panoramica su tutto quello che possiamo ritrovare all'interno di un giardino, ovvero tutto ciò che compone un giardino. Di una casa noi sappiamo che esistono il soggiorno, la cucina, il bagno, il ripostiglio, la camera da letto e che ciascuno di questi ambienti è arredato con divani, lavello, piano cottura, tavolino e quant'altro. Allora, il giardino fondamentalmente non è diverso rispetto a un'abitazione. Concettualmente contiene tutta una serie di elementi che riempiono lo spazio trasformando un appezzamento di terreno in un ambiente, oppure un terrazzo, in un ambiente più vivibile, confortevole, dove è piacevole trascorrere del tempo e anche dedicarsi alla sua cura. Allora, vediamo quali sono le principali componenti di un giardino. Partiamo da quella che è la sua cornice, ovvero le siepi. Le siepi sono tantissime. Le siepi che possiamo prendere in considerazione possano essere monospecie, ovvero la classica siepe di Alloro, di Fotinia, di Lauro Ceraso, oppure in maniera un pochino più moderna e contemporanea, una siepe non muro, composta da diverse tipologie di piante con caratteristiche ed esigenze simili che possono creare una siepe ornamentale composta da diverse specie e varietà. Ci sono anche siepi realizzate con i rampicanti, ci sono siepi realizzate con dei pannelli su cui sono attaccate delle foglie di plastica che fanno venire l'orticaria solo a vederle di lontano, ma diciamo che le siepi sono tantissime fra di loro e quindi a noi oggi interessa sapere che la siepe è la cornice del giardino che ci tutela da occhi indiscreti o comunque ci dà una sensazione maggiore di intimità all'interno del giardino. Al di sotto della siepe ma anche in altre parti del giardino troviamo le aiuole oppure le bordure. Oggi in alcuni giardini si tende a proseguire con un concetto di siepe composta da diverse tipologie di piante mettendo alla base due livelli di altezze di piante fiorite diverse, per esempio rose paesaggistiche con lavande oppure con fioriture stagionali. Il giardino può sembrare in apparenza disordinato ma in realtà è un disordine casuale molto gradevole e non è diciamo quella che in Italia risulterebbe un po' una forzatura dei mixer border inglesi che sono meravigliosi, bellissimi da vedere in Inghilterra o sulle riviste patinate molto difficili e molto impegnativi da realizzare in Italia nel nostro clima. Ma questa tipologia di bordure e di aiuole che viene proposta nei giardini in Italia è proprio stata studiata e si è evoluta nel tempo proprio andando a selezionare tutta una serie di piante funzionali ed efficienti. Un elemento o più elementi importanti nel giardino sono gli alberi. Perché un albero può fare un giardino oppure disfarlo? Perché c'è quella frase che si sente ripetere abbastanza spesso ultimamente dagli addetti ai lavori ma è una frase che viene da lontano e che è condivisa anche con amici che si occupano di docenza universitaria sull'architettura del paesaggio piuttosto che sull'architettura e cioè la pianta giusta al posto giusto. Se io ho un piccolo giardino e ci metto una magnolia perché mi piace, perché è piccola e bellina faccio un errore perché in natura la magnolia tende a crescere, a raggiungere i 10-12 metri di altezza per gli 8-10 di larghezza. Allora se io metto una pianta di questo tipo nel mio giardino sarò costretto a potarla tutti gli anni. Quindi un costo e un dimezzamento dell'aspettativa di vita della pianta perché ogni potatura è comunque un piccolo intervento chirurgico, anzi più o meno grande intervento chirurgico che debilita ed esaurisce le sostanze di riserva della pianta. Piccolo giardino, piccolo albero. Grande giardino non è detto grande albero, possano esserci anche alberi piccoli e medi. Gli alberi grandi lasciamoli al paesaggio, ai parchi e per parco si intende non un giardino ma un ambiente molto grande e molto strutturato. Per fortuna la natura ci viene incontro, ci sono piccoli alberi come la gestionemia che fanno una piccola ombra ma fanno anche una bella chioma fiorita tutta l'estate, ci sono piccoli alberi molto scenografici come questo prunus da fiore, un subitella autunnalis pendulo, oppure come vedete nella fotografia in basso a sinistra, mi dispiace che non si vede la foto completa, però è un rettangolo con un albero ed è bellissimo, cioè l'albero diventa un elemento architettonico, un elemento solitario all'interno di un piccolo giardino, è una soluzione minimale ma come tutte le soluzioni minimali la trovo decisamente elegante e interessante. In un giardino non possono mancare i rampicanti che sono delle piante giolli da una parte perché ci possono risolvere un problema, per esempio una brutta recinzione in un campo di un vicino con il vicino che non vuole spendere soldi per sistemare la recinzione, possiamo buttarci sopra un rampicante anche veloce come il gelsomino o come il solanum e avere una copertura magari di una brutta recinzione o di un brutto muro con una vegetazione sempre verde che ci allieta anche l'olfatto con la fioritura profumata nel mese di maggio giugno e la vista con questa profusione di fiori che queste piante fanno ma abbiamo anche le rose rampicanti che possiamo utilizzare sia in un giardino che in un terrazzo abbiamo dei rampicanti molto affascinanti e da collezione come i glicini straordinari oppure ancora le lonicere, alcune profumate, altre un pochino meno nel mondo dei rampicanti c'è solo da cercare la pianta giusta per il proprio terrazzo o giardino Prati e camminamenti Sui prati ci sarebbe da parlare per una settimana però dico semplicemente due cose Prati naturali Cominciamo a prendere le distanze da un prato perfetto Il prato perfetto è diciamo quello che noi vediamo negli stadio quando giocano le partite di calcio ma dobbiamo sapere che perché il prato sia così bello la domenica quando c'è la partita da un minuto dopo il termine della partita per i sei giorni successivi una squadra di 12, 18, 22 giardinieri si occupano della manutenzione del prato quindi se volete un prato perfetto nel vostro giardino sappiate che dovete investire molto e allontanarvi anche un pochino dalla sostenibilità perché i prati perfetti sono deboli e si ammalano facilmente quindi occorre effettuare dei trattamenti abbastanza continuati in questa immagine che vedete in basso a destra c'è un prato artificiale allora è una cosa che ho fatto un po' ho torto collo nel senso che questo signore aveva creato una predisposizione per fare la piscina in giardino avendo pavimentato una parte del giardino vicino al gazebo vicino all'abitazione era lo spazio perfetto per realizzarci la piscina per una serie di problemi burocratici non ha ottenuto il permesso per realizzare la piscina come pensava che fosse scontato ottenere per cui si è ritrovato questo rettangolo perfetto e non volendo impazzire per tagliare il prato e fargli un po' di cura e di manutenzione mi ha chiesto di mettergli un tappeto erboso sintetico oggi credo che non lo rifarei nel senso che il tappeto sintetico può avere una logica in determinate situazioni e condizioni dove siamo impossibilitati a mettere qualcosa di organico però è plastica quando arriva l'estate con le alte temperature si sente che è plastica si sente l'odore si scalda lasciamo perdere invece vedete a sinistra il classico opus incerto la pavimentazione che nell'immaginario di chiunque è presente nei giardini storica credo che questa tecnica risalga veramente a molti secoli indietro nel passato in basso a sinistra invece vedete una tecnica di pavimentazione fatta con i ciottoli bellissima logicamente più onerosa perché ci vogliono persone esperte e non è così semplice ottenerla efficiente e soprattutto senza problemi poi di gestione però indubbiamente la sua eleganza e la sua bellezza è per me superiore poi ce ne sono mille altri questi come vi dirò dopo sono solo alcuni esempi di argomenti sui quali potremo poi fare una serie di approfondimenti le pacciamature le pacciamature vorrei chiarire molto semplicemente che le pacciamature non risolvono il problema delle erbe infestanti ma lo rallentano molto ovvero se io non le metto ho in una aiuola magari anche un'ora e mezzo di lavoro per togliere le erbe infestanti se metto la pacciamatura invece di un'ora e mezzo saranno dieci minuti per togliere quelle quattro cinque piantine che andranno a nascere in qua e in là dobbiamo cominciare a accettare che un giardino ha delle fasi e così come chiunque anche la più bella delle attrici o fotomodelle ha avuto i brufoli in età giovanile e così più bello degli attori o dei fotomodelli ha avuto magari un po' di acne giovanile così un giardino in partenza ha qualche piccolo brufolo dovuto a magari una pianta che impiega un pochino più tempo da attecchire e cresce più lentamente di quelle vicine un ciuffo d'erba che nasce all'interno di un'aiola ma sono tutte piccole cose che si correggono nel giro di un anno e mezzo o due man mano che il giardino si affranca entra in una fase di accrescimento costante e duraturo e a quel punto le erbe infestanti passano da 100 a 3 però credetemi io preferisco un giardino con 3 erbacce a un giardino asettico quasi sterile troppo bello per essere naturale siamo a i vasi diciamo per un terrazzo sono obbligatori vasi fioriere in giardino però c'è il piacere anche di avere qualche bel vaso o moderno o ultra classico in cotto dove magari coltivare una pianta che necessita di un terreno più selezionato come una camelia una zalea una grume una pianta particolare tipo la brugmansia che fa fiori profumati ma è una pianta subtropicale quindi il vaso lo possiamo spostare riporre o in una piccola serra o addossandola a una parete che guarda a sud in maniera tale da andare a posizionare la pianta in un ambiente di microclima i vasi ci sono oggi di una quantità infinita di materiali ci sono in plastiche anche riciclate particolari con la possibilità di creare dei serbatoi di acqua o delle cose che aumentino il peso e la stabilità stessa del vaso è il caso di quello in alto a sinistra oppure dei vasi in resine bellissime molto eleganti molto moderni come questi cilindrici oppure il classico vaso in cotto famoso nel mondo ancora di più quello in cotto dell'impruneta fiorentina che è considerato il cotto eterno una curiosità in palazzo vecchio c'è un vaso in cotto che è marcato 1500 io ho in giardino un vaso che ho ereditato da mia nonna che è marcato 1760 e sta all'aperto da sempre quindi sono investimenti sono vasi che forse costano molto di più rispetto a un vaso di resina o di plastica ma è un oggetto che in certi casi si vede anche in negozi di antiquariato perché è un oggetto destinato alla storia magari un elemento solo un solo vaso incotto all'interno di un giardino anche in mezzo ad altri vasi molto moderni può fare la differenza come la può fare nell'arredamento di un'abitazione avere un cassettone o un tavolinetto o un mobile antico a contrasto magari con un arredamento moderno della casa stessa l'acqua è vita e lo è e come nel senso che noi non dobbiamo mai dimenticare che il giardino è un complesso organismo vivente fatto da complessi organismi viventi tutta la vita sulla terra è legata strettamente all'acqua allora è vero che si sente parlare di giardini asciutti ma non facciamoci trarre in inganno il giardino asciutto è fatto con piante molto resilienti in grado di sopportare anche lunghi periodi di siccità ma se quando lo realizziamo non andiamo ad irrigare ad innaffiare le piante per consentire loro un attecchimento queste andranno a soccombere una volta attecchite avranno la possibilità di manifestare la loro resistenza alla siccità e quindi di permettere l'ottenimento di un giardino che si bagna poco pochissimo o anche addirittura nulla in determinate condizioni in determinate situazioni per tutti gli altri occorre un impianto di irrigazione perché l'andamento climatico sta andando sempre più verso il caldo i giardini hanno bisogno di acqua perché sono composti da piante che in vivaio ricevono due tre volte al giorno acqua per il loro sostentamento anche se sono piante che in natura resistono la siccità capite che le togliamo dal paradiso terrestre del vivaio dove ricevono acqua goccioline nutrienti e quant'altro li mettiamo in un giardino arido e queste muoiono in un quarto d'ora dobbiamo farle adattare quindi l'acqua dobbiamo portarla in giardino dobbiamo progettarla bene vedete in alto a destra c'è lo schema progettuale di un giardino con la parte a pioggia la parte a goccia un giardino ben irrigato sarà un giardino sano sarà un giardino il cui colore è omogeneo sarà un giardino in accrescimento costante ogni giardino ha una zona d'ombra voluta creata cercata che può essere ottenuta con la chioma di un albero oppure andando a collocare in giardino una struttura più o meno rustica più o meno moderna che crei una sorta di piccolo ambiente raccolto ecco le pergole e i gazebo che possono creare un salotto nel giardino una zona pranzo una zona relax nel giardino possono creare una zona d'ombra dove andare a leggere un libro in estate o trascorrere una serata con gli amici vedete che possano essere estremamente semplici rubati fra virgolette all'agricoltura come quello in alto a sinistra che sembra una pergola che veniva usata una volta per coltivare le diti da tavola possano essere delle strutture moderne come questo bianco classiche come quello in ferro battuto in basso a sinistra oppure oggi ce ne sono di ultramoderni con il tetto che bascula che si apre si socchiude fa filtrare la luce fa passare l'aria si sigilla con pareti in plexiglass che si possono chiudere senza fare cubatura e volume andando poi a come si dice creare problemi burocratici di autorizzazioni e quant'altro però il loro fascino specialmente quando ci si fa crescere sopra un rampicante il loro fascino è indiscusso l'illumino dimmenso è illuminare il verde è meno semplice di quello che si possa immaginare ma quando viene fatto bene l'effetto scenografico è difficilissimo da fotografare ma straordinario da percepire quando si esce in giardino qui ci sono tre semplici esempi di luci nascoste o di luci a vista anche nel periodo invernale il giardino illuminato prende forme dimensioni e colori diversi da quelli del quotidiano e quindi quando un giardino è illuminato bene è come averne due uno di giorno e uno di notte vedete questo è un piccolo ma non troppo semplice giardino un po' naturale un po' riferito al paesaggio un po' ornamentale questo è un giardino costruito su misura sulla proprietaria e sulle sue esigenze e con questa immagine siamo alle conclusioni le conclusioni sono molto semplici questi sono molti degli elementi del giardino i principali sono quelli botanici non sono entrato nelle collezioni non ho fatto una specifica sulle rose o sulle hortensie o sui glicini o sulle alberature particolari perché ciascuno di questi argomenti verrà trattato nel corso del 2022 di questo anno perché su ciascuno di questi elementi faremo dei focus di approfondimenti all'interno dei quali potrete trovare maggiori informazioni curiosità aneddoti tutto quello che riguarda questa sfera la sfera del giardino e del terrazzo ma anche qualcosa che oggi non ho trattato non abbiamo parlato di tecnologie non abbiamo parlato per esempio di sonorizzazione di sistemi di domotica di fontane giochi d'acqua sedute il giardino è un contenitore quasi infinito di elementi non solo vivi come sono le piante e i prati ma anche di elementi di arredo lampade lanterne a fiamma o a fiamma simulata ci sarà da divertirsi seguiteci iscrivetevi ai nostri corsi io sarò uno dei vostri docenti e sono sicuro che avremo modo di affrontare tutti questi argomenti per aiutarvi a comprendere questo meraviglioso mondo delle piante e dei giardini ma anche al tempo stesso divertirvi perché le nostre lezioni spesso e volentieri nell'affrontare problematiche argomenti legati alle piante ai giardinieri ogni tanto ci danno anche lo spunto per raccontare qualche aneddoto qualche storia un po' particolare divertente e curiosa legata a questa pianta a quell'intervento a quel terrazzo a quel giardino che rendono ancora più piacevole il dialogo specialmente anche quando c'è scambio rendono anche più piacevole il dialogo durante le nostre lezioni in Accademia Italiana del Giardino io vi ringrazio spero di avervi con me alle prossime lezioni vi auguro una buona giornata e a presto grazie da Francesco Mati e Accademia Italiana del Giardino è tutto per oggi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti